L'Italia sono anch'io, la campagna nazionale per i diritti di cittadinanza delle persone di origine straniera è arrivata anche in Piemonte. Il comitato promotore piemontese, al quale aderiscono anche le ACLI, ha presentato un'iniziativa alla Liberia Feltrinelli nell'area della stazione Porta Nuova. La campagna L'Italia sono anch'io propone una raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare che estendono i diritti di cittadinanza e di voto alle persone di origine straniera presenti in Italia. Oggi in Italia vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera. Si legge nel comunicato, molte di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti qui. Solo al compimento del diciottesimo anno di età si vedono riconosciute la possibilità di ottenere la cittadinanza, iniziando nella maggior parte dei casi un lungo percorso burocratico. Questo genera disuguaglianze e ingiustizie, limita la possibilità di una piena integrazione e disattende il dettato costituzionale, articolo 3, che stabilisce l'uguaglianza tra le persone. La seconda generazione in Italia è clamorosamente integrata, ormai sono tantissimi cittadini, penso alla nostra città, nella quale si sentono per metà musulmani e per metà italiani, per metà figli di immigrati, ma che si sentono a pieno regime, a pieno titolo cittadini di questa città e italiani. È ora di riconoscerlo, non si può soltanto pensare che si sentano italiani, ma è giusto riconoscerli. Gli stranieri ormai vivono qua, lavorano qua, producono reddito e cultura, pagano i contributi come tutti, pagano l'IRPEF nazionale, l'IRPEF regionale, l'IRPEF comunale, quindi praticamente rappresentano quasi 10% del PIL. Quindi, visto che producono, lavorano, devono avere anche voce in capitolo, nel senso che si dice che se io lavoro, pago le tasse, devo avere anche la possibilità di dire la mia. Poi è giunto il tempo anche in Italia di cambiare, diciamo, anche la legge sulla cittadinanza, perché ormai il mondo è cambiato, non si può continuare a legare la cittadinanza al diritto del sangue.